tra gli ospiti di dritto e rovescio ecco giorgia meloni nella puntata in onda su rete 4 giovedì 11 febbraio paolo del debbio intervista la leader di fratelli d'italia e si parla anche del ministero della transizione ecologica il ministero verde lo strapuntino concesso da mario draghi al m5s per convincerli ad entrare nel governo specchietto per le allodole in verità e non soltanto perché un ministero dell'ambiente esiste già e a spiegare per filo e per segno perché sia uno specchietto per le allodole grilline è proprio la meloni del debbio interroga la leader di fdi il ministero della transizione ecologica non lo potevano far prima sono stati lì due anni e la meloni risponde partendo da una battuta transcian se posso consigliare i grillini più che il ministero della transizione li vedrei bene a quello della transumanza quello che fanno loro nel tentativo disperato di difendere la poltrona ogni volta grillini colpiti e affondati a stretto giro di posta la meloni aggiunge dunque segnalo che esiste un dipartimento della transizione ecologica e indovini un po è al ministero dell'ambiente sottolinea sorgnona ora se io non vado errata l'attuale ministro dell'ambiente fu indicato in quota m5s si parla di sergio costa dopodiché riprende la transizione ecologica si potrebbe configurare all'interno del ministero dello sviluppo economico e ancora si ricorda chi fu ministro dello sviluppo economico del governo gialloverde si chiamava luigi di maio questi grillini che oggi ci spiegano che hanno questa grande idea della transizione ecologica questi grillini che scoprono oggi l'ecologia mentre gestivano quei due ministeri non si sono accorti che quel dipartimento già esisteva la gente non è stupida conclude giorgia meloni